dopo non so quante ore ecco a voi la nuova tana del boomer è diversa da prima so che sembra uguale adesso faccio vedere bene il dettaglio è allora arrivo iniziamo qui abbiamo jarvis che lavora anche qui c'è jarvis e qui c'è tony che fa fa delle cose lavora con delle cose qui ci sono delle spade qui c'è una prima serie di armature e in alto in alto si sogna intanto qui abbiamo l'ulkbuster e iron man che prende il sole per poi andare di sopra michelino giordano michelino giordano cobi michelino giordano cobi ghostbuster non non ha un nesso logico questa cosa è tutto bellissimo amici tutto anche la saletta di muschio in questo orribile cuscino nuggets di travis scott che odio giradischi libreria sistemata iron man ma la vera chicca ve la faccio vedere adesso chicca è per quando qualcuno chiederà dov'è il bagno tipo farà scusate dov'è il bagno e noi gli risponderemo segui francesca michelin scusa franci però faceva veramente tanto ridere scusami sarò sincero io non ho assolutamente idea se si possa avere una crisi di mezza età a 31 anni ma credo che tutto quello che avete appena visto rientri nella mia personalissima crisi di mezza età buonanotte grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille Grazie a tutti.